Maria Campai, 42enne di origini rumene, è stata brutalmente uccisa con una mossa simile a una presa di wrestling che l'ha immobilizzata, seguita da colpi al viso. La donna, scomparsa il 19 settembre da Viadana, nel Mantovano, è stata ritrovata senza vita una settimana dopo nel giardino di una villetta abbandonata. L'omicidio è stato commesso, secondo le indagini, da un 17enne che ora si trova nel carcere minorile di Milano. Con il passare del tempo, emergono ulteriori dettagli su questo tragico evento. Maria era scomparsa il giorno in cui aveva incontrato il giovane, conosciuto online, con il quale aveva avuto un incontro intimo. In seguito, la situazione è degenerata in un atto di violenza estrema, culminato in un omicidio consumato apparentemente senza un vero motivo. Il corpo della donna è stato ritrovato proprio grazie alle indicazioni fornite dal 17enne stesso. Durante un interrogatorio di circa un'ora e mezza, il giovane ha risposto a tutte le domande del giudice, confermando quanto già dichiarato agli investigatori al momento del fermo. All'uscita dal Tribunale dei minori di Brescia, i suoi legali hanno mantenuto il massimo riservo. Paolo Antonini, uno dei difensori, ha dichiarato. Ora la valutazione di quanto dichiarato spetta al giudice. Abbiamo deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni per tutelare il minorenne, già sufficientemente colpito dall'esposizione mediatica. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere, convalidando il fermo e disponendo la custodia cautelare presso l'istituto minorile Beccaria di Milano. Le motivazioni che hanno portato il 17enne a uccidere Maria Campai restano ancora un mistero. Non è chiaro cosa abbia pensato o cosa lo abbia spinto a compiere un atto così violento. Tuttavia, alcuni elementi emersi dai suoi profili social rivelano dettagli inquietanti. Il ragazzo aveva un'attenzione quasi maniacale per il proprio aspetto fisico, documentata da foto che lo ritraggono impegnato in intensi allenamenti in palestra. Tra le sue condivisioni sui social spiccano anche immagini di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, per cui sembra avesse una sorta di ammirazione. In uno degli scatti pubblicati su Instagram, il 17enne appare davanti a uno specchio in palestra, in posa per mettere in mostra i bicipiti. Accompagna la foto con la didascalia Brian Moser, un riferimento al serial killer conosciuto come Eye Struck Killer, un personaggio della serie Dexter, famoso per uccidere senza pietà diverse prostitute a Miami. Questo dettaglio aggiunge un'ulteriore sfumatura al quadro psicologico del giovane, suggerendo una possibile fascinazione per figure violente e disturbate, come quella di Moser, il fratello del protagonista Dexter Morgan. Questi indizi, benché inquietanti, non offrono risposte definitive sul perché il ragazzo abbia deciso di uccidere Maria, ma contribuiscono a dipingere un quadro complesso e allarmante. Le indagini sul femminicidio di Maria Campai proseguono senza sosta. I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche sono tornati nei luoghi del delitto, raccogliendo nuove tracce ematiche e altri reperti utili per l'inchiesta. Tra gli elementi ancora da rintracciare, il cellulare della vittima rimane una prova fondamentale. Potrebbe aiutare a ricostruire i contatti tra il diciassettenne e Maria, fornendo indizi cruciali sul loro ultimo incontro. Inoltre, c'è il mistero del messaggio inviato alla sorella di Maria per rassicurarla. È stato davvero mandato da Maria o è stato il diciassettenne, dopo l'omicidio, nel tentativo di depistare le indagini. I primi accertamenti sul corpo della vittima indicano che Maria è stata colpita alla testa e successivamente strangolata con una mossa secca, simile a quelle impiegate negli sport da combattimento. Tuttavia, l'esame autoptico sarà decisivo per chiarire ulteriori dettagli sul modo in cui è avvenuto l'omicidio e sulle esatte cause della morte.